Personalmente Dada Umpa Professional Chiavari, ringraziamo tutto lo staff dall'esterno di Dada Umpa e ringraziamo anche Entella TV, il ringraziamento viene anche da parte mia ma all'inizio tu mi hai regalato un sorriso, io mi permetto in chiusura di appuntamento di regalarti una rosa Io ti ringrazio, lo contraccambio con un bacio L'appuntamento è per l'anno prossimo ovviamente, quindi nel 2001 preghiamo anche la Lady di raggiungerci Grazie